Signor Commissario, cari colleghi, questo è un pezzo molto importante, questo rapporto del collega Menendez del Valle con cui mi congratulo, nello sforzo che stiamo cercando di definire nella Commissione Commercio Internazionale e in tutto il Parlamento per avere nuove regole e uno slancio diverso per quanto riguarda il commercio del Mediterraneo. È un compito essenziale, credo che sia una delle grandi sfide, approfittando anche proprio delle competenze esclusive dell'Unione Europea in materia di commercio internazionale, per dare delle risposte a quei Paesi che oggi hanno ancora un largo potenziale non utilizzato in termini di politica commerciale nei nostri confronti. Si tratta non soltanto di portare maggiore stabilità e maggiore prosperità, si tratta anche di allargare la base sociale e la base produttiva di coloro che possono beneficiare della politica commerciale. Io credo che questa Convenzione dovrebbe avere tre importanti effetti. Abbiamo già detto incentivare il commercio sud-sud che oggi è a livelli quasi minimi nella zona del Mediterraneo. In secondo luogo, favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e delle medie imprese in modo da operare quella che io definisco come relatore di un altro provvedimento, il Trade for Change, le misure commerciali per i Paesi in via di democratizzazione nel sud del Mediterraneo, una liberazione dei processi economici e commerciali in Paesi che hanno spesso vissuto con delle poche oligarchie al potere, che hanno tenuto nelle loro mani i proventi del commercio. E infine rendere più leggibile in questo commercio attraverso regole semplici. Il problema di Israele va sicuramente affrontato, altrimenti ne va veramente della credibilità del Parlamento. È un lavoro importante. Spesso ci siamo chiesti perché soltanto adesso siamo riusciti ad arrivare a una semplificazione delle oltre cento diverse norme che regolavano le regole di origine. Importante la ratifica rapida da parte di tutti. Quello che sta succedendo sulla ratifica sul mandato della Banca Europea degli investimenti per il Mediterraneo non è molto incoraggiante, è un processo di ratifica molto lento da parte degli Stati membri. Speriamo di non avere questo ritardo anche con la Convenzione. Grazie, signor Rinaldi.